Nuova settimana, nuovo mercato nero di Mauriz. Questa settimana ci troviamo al QG Atlas e il mercato nero di Mauriz non suole molto bello, ma è anche abbastanza vicino. Vediamo il percorso. Vi ricordo di iscrivervi nel caso non lo siete ancora per non perdervi il mercato nero di Mauriz quando cambierà posizione e contenuto la settimana prossima. Inoltre, se volete supportarmi, attiva la funzione di abbonamenti di questo canale a un prezzo bassissimo. Detto ciò, per quanto riguarda il percorso, è veramente semplice. Seguite la strada originale del QG Atlas e appena arriverete alle scale sulla destra, letteralmente ci vorrà una trentina di secondi, vi troverete il mercato nero di Mauriz dritto di fronte a voi. Ed eccoci arrivati. Quindi, questa settimana nel mercato nero di Mauriz troveremo lo shotgun leggendario Projectile Recursion, ancora molto molto forte nonostante tutti i nerf che ha ricevuto, la pistola leggendaria Nemesis, nulla di speciale ma comunque molto forte e piacevole da utilizzare. E infine, a me non è apparsa, ma c'è anche la Light Show, quella del DL-C3, la pistola leggendaria, ed è veramente la ciliegina su una torta. Settimana fantastica.